Istituire a Sciacca un museo del cinema. Questa la proposta dell'Associazione Culturale Pietro Germi, che ha chiesto ufficialmente al sindaco Francesca Valenti di poter disporre di parte dei locali del convento dell'Abbadia Grande. All'interno degli eventuali spazi messi a disposizione, il sodalizio conta di mettere in mostra tutta una serie di cimeli e reperti legati al regista genovese e ai due film, Sedotta e Abbandonata e In nome della Legge, che ha girato in Sicilia. L'iniziativa di Vincenzo Raso, presidente dell'Associazione, non si pone in concorrenza con le richieste già pervenute da parte di altre organizzazioni, posto che si chiede di poter avere in concessione soltanto una o due stanze. La mia idea è stata sempre di creare un museo del cinema dedicato a Pietro Germi. Dato che ho a casa diversi reperti raffiguranti per Pietro Germi, io chiedo all'amministrazione dei locali all'Abbadia Grande, dato che le sorelle fra i giorni andranno via, ma per me va bene pure una stanza dove allocare tutto quello che ho a casa mia lì e addirittura ho proposto pure alla Giunta e al Sindaco, se c'è eventualmente di fare, staccare dai ticket, i soldi ricavati andranno devoluti al comune di Sciacca. Questa idea del museo del cinema, perché pensa di realizzarlo proprio a San Michele, a Labbadia Grande? È semplice, è palese. Noi sappiamo, saccensi, che la location di San Michele, piazza Gerardo Noceto, era il posto dove Pietro Germi amava fare le riprese. Infatti, cito in nome della legge, è seduta abbandonata, quasi molte cose sono state girate in piazza Gerardo Noceto. Io aggiungo che per il centenario noi dell'Associazione Culturale Pietro Germi abbiamo commissionato a Gabriele Venanzio la statua di Pietro Germi, la panchina statua, dove è stata allocata proprio a Labbadia Grande. E vorrei dire a questo punto che la statua è stata pagata per intero della nostra associazione culturale. Io al comune non ho mai chiesto un soldo per tutto quello che io ho fatto. Ricordo bene, ho presentato il mio primo documentario a Canne dove abbiamo vinto e nei titoli di code si vedeva sciacca. L'ultimo documentario che ho fatto adesso, che è stato proiettato al Cineform di Venezia, c'era tutto sciacca e lungo e largo perché parlavo dei fuoriscena di seduta abbandonata. Allora io vorrei per concludere aprire questo museo dedicandolo a Pietro Germi nella location più opportuna e più bella che è quella di piazza Gerardo Noceto. Ho presentato e ho protocollato una richiesta fatta al sindaco e all'amministrazione comunale. Al sindaco l'ho fatto un po' più prolissa per fargli vedere i miei dici anni dell'associazione culturale Pietro Germi, quello che ho fatto per la città di Sciacca. E poi tengo a dire che la mia associazione è stata riconosciuta dal MIBAC, ente cinematografico italiano, che è una cosa molto importante. Per gli addetti ai lavori capiscono che cosa significa essere riconosciuto dal MIBAC.